Ciao ambasciatori, presentiamo la non-attività con una citazione di professor Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Tratta della presentazione del tema della settima edizione di Festa di Scienze e di Filosofia. La scienza, da sempre, ha messo a disposizione dell'umanità conoscenze e quindi le condizioni fondamentali basilari per una secolare, profonda e continua azione di innovazione e di cambiamento che hanno generalmente apportato progresso, miglioramento e, per molti anni, anche pace. Facendo riferimento a queste parole, si può capire quanto lo sviluppo tecnologico e la scienza applicata con filosofia ed edizione siano fondamentali per il miglioramento delle condizioni di vita e l'evoluzione di una società globalizzata, pacifica e in continua evoluzione. In settimana ci vediamo con un altro video in cui vi spiegherò le attività che potete fare nella fase in presenza che va dal 27 al 30 aprile. Detto questo vi saluto. Ciao a tutti!